E' un passato come giocatore di football, però sicuramente il suo talento era superiore con la palla a spichi. Eccolo qui, Raphael Edison, come dicevi tu Flavio, vecchia conoscenza del nostro campionato. C'è il fallo dei confronti di Fatui, che era andato come sempre con grande prontezza a rimbalzo. Edison, proprio come John Wallace, viene da Syracuse, giocava assieme a Wendell Alexis, altro giocatore che abbiamo visto a lungo in Italia e che ora sta facendo l'Eurolega con l'Alba Berlino. Giocatori che hanno lasciato assieme, Syracuse nel 1986, ma Edison ha avuto una buona carriera, anche se ha spazi nell'NBA, Alexis invece ha scelto.